Bene, buongiorno, sono il Parco di Son Gavazzo e quest'oggi abbiamo celebrato in questo bellissimo posto una Santa Messa organizzata dall'Associazione Volontari di Son Gavazzo, un gruppo di persone che si danno da fare per il bene della comunità e del Paese ed è molto bello che ci tengano ad inserire dentro il loro volontariato la fede, la presenza del Signore e quindi richiedano la celebrazione della Messa dentro una delle loro attività che poi si ripercuote in tutte le loro esperienze, in tutto il loro lavoro quindi ringrazio il Signore per questo evento e ringrazio tutti i volontari che si danno da fare per il bene del nostro Paese Ecco, allora io sono il Presidente dell'Associazione Volontari Italo Brasi e tutti gli anni ci teniamo particolarmente a fare questa giornata perché non la chiamiamo una festa ma la chiamiamo una giornata, una giornata dedicata alla Madonna del Carmine che è stata costruita nel 1910, ristrutturata nel 1981 e poi ristrutturata di nuovo nel 2004 ecco, l'amico Zamboni Rocco e tutta la famiglia ci tengono particolarmente perché abitavano proprio qua in Pernosino e la mamma era devota, il marito in guerra e tutto insieme lui ci tiene particolarmente la fatta ristrutturare lui da una laureata proprio per rimettere a posto bene la Madonnina e tutti gli anni ci tiene particolarmente, si impegna a preparare il capannone con altri amici e così e anche quelli che preparano da mangiare sia Emilio, Manetta e tutto insieme, Giacomo, Edoardo e suo fratello anche che si è impegnato a portare su tutti i tavoli e tutto, Rodolfo che ci tengono particolarmente tutta la famiglia Zamboni è qua presente io adesso quest'anno c'è stato anche appunto Don Ivan che è il nuovo parroco di Son Gavaggio che ci ha fatto il piacere proprio un'onore averlo qua con noi perché è sempre un po' impegnato avendo poi le due parrocchie è sempre impegnato comunque ci ha fatto il piacere siamo qua in una novantina fermi a mangiare, l'ho detto poc'anzi che a pranzo sono di più che quelli che partecipano a Messa, mi hanno detto che il prossimo anno saranno tutti presenti a Messa io ringrazio tutti quelli che hanno preparato, che hanno tribulato e stanno tribulando e grazie di cuore a tutti al prossimo anno